Il campo basso liquida 1-0 la vastese grazie ad un gol di Candeloria d'inizio secondo tempo di fronte a 1300 spettatori che si godono così il primo successo interno del lupo Cudini. Conferma il 4-3-1-2 con Pistillo riproposto al centro della difesa e Candeloria a supportare Alessandro e Musetti. Deludente la vastese di Marco Amelia che a fine partita affermerà di essere stato lui stesso più carico dei suoi giocatori. Arbitra il signor Ubaldi di Roma. Solo un minuto per il tiro di Dos Santos che è murato dalla difesa rosso-blu. La palla poi è preda di Palumbo che scocca un esterno sinistro di poco fuori. Vastesi subito insidiosi. Replica di Musetti dopo 60 secondi con il colpo di testa parato da Bardini. Intorno al diciottesimo grossa palla gol per Dalmazzi servito da Pizzutelli. Il difensore di casa avrebbe potuto sfruttare meglio la chance. Il campo basso sembra ingranare anche se al diciannovesimo Musetti riesce a ritagliarsi uno spazio molto interessante ma non è in grado di bucare Bardini il quale può respingere. Il gol sembrerebbe maturo e rosso-blu creano ma al ventesimo il destro di Candelori va ad impattare il palo esterno. Anche sfortunata la squadra di Cudini. Al ventiquattresimo la Vastese prova a spezzare il forcing rosso-blu con un destro di Palumbo bloccato a terra da Natale. Gli sprazzi di casa non vengono sfruttati a dovere. Al trentatresimo Menna fa tutto da solo e chiama lo scambio a Candelori. Palla restituita a Menna che conclude con parata centrale di Bardini. Dalla battuta del corner di Pizzutelli stacca da due passi Pistillo che fallisce l'uno a zero. Vastese che non vuole stare solo a guardare al quarantunesimo torre di Cardinale per la correzione di Bardini respinta dallo stesso Pistillo. I giocatori in maglia bianca chiedono un braccio del difensore di casa ma nessuna irregolarità viene vista dal direttore di gara. Il campo basso chiude in attacco il primo tempo proprio allo scadere da Musetti ad Alessandro che fa partire un missile respinto da Bardini. Un tiro molto forte probabilmente visto all'ultimo dal portiere ospite. Dalla bandierina la palla giunge a Bontà che alza sopra la traversa. Fine primo tempo dopo un minuto di recupero. Nessuna sostituzione né per Cudini né tantomeno per Amelia. Il campo basso sblocca la partita dopo solo i quattro minuti della ripresa. Taglio interessante di Alessandro per la correzione da due passi da parte di Kevin Candelori. È il giusto vantaggio della squadra di casa. Uno a zero per il campo basso che sarà poi anche il risultato finale. Dall'altra parte Amelia decide di inserire Perrocchi in luogo di Pompei. Per gli ospiti ci prova quasi al settimo Palumbo con un destro che si spegne a lato. Al decimo tiro da fuori dello stesso Alessandro con presa in due tempi di Bardini. Il campo basso potrebbe chiudere la contesa al diciassettesimo. Taglio di Pizzutelli. La sfiora Musetti con la palla che esce di pochissimo a lato. Devono passare altri due minuti per il cross di Esposito. La difesa di casa si dimentica di Palumbo al centro con quest'ultimo che alza sopra la traversa. Al ventitresimo si sta per ripetere il gol di Tolentino. La vita Candelori si tuffa sul pallone e bontà la palla esce a lato fra gli applausi dei presenti che dimostrano di gradire. È un campo basso che si fa decisamente preferire questo del secondo tempo. Al venticinquesimo occasione per i bianchi. Con Palumbo che mette al centro la tocca dal mazzi. Si esce Natale per sventare. Amelia si gioca la carta stivaletta al posto di un deludente esposito dal ventottesimo. Tra l'altro ex di turno fischiato dal pubblico presente. Qualche secondo più tardi dentro Zammarchi per l'infortunato Tengorang. Alla mezz'ora protestano tantissimo i giocatori di casa per un fallo dato ai vastesi dopo presunte irregolarità di bontà. Quasi al limite la punizione di Palumbo è molto imprecisa. Subito dopo fuori Musetti dentro l'ex di turno Giampaolo. Succede tanto nel finale che è di fatto anche di sofferenza per il campo basso vicino al raddoppio. Al trentaseiesimo da Alessandro Avanzan che crossa senza trovare deviazioni amiche al centro. Un minuto ancora e Dos Santos viene pescato regolare in area di rigore. Il suo pallonetto è sventato da un prodigioso Natale nella circostanza. Al quarantunesimo dentro da una parte Giambè per Alessandro. Dall'altra Amelia inserisce Cavuoti per Ravanelli. Dentro nel campo basso anche Caffiero al posto di Pizzutelli quando siamo al novantesimo. Finale palpitante con i rosso-blu che sfiorano il 2-0 grazie a Giambè che si libera bene di un avversario. Mette al centro dove trova un difensore avversario a spazzare. Nelle battute finali il novantacinquesimo potrebbe esserci un fallo di Dos Santos su Caffiero che viene ignorato. Anzi è corner per gli ospiti. Sale anche il portiere. Batte Zinni a colpire proprio l'estremo ospite Bardini ma l'azione non porta frutti per gli abruzzesi. Festeggia giustamente il campo basso per una vittoria risicata ma molto meritata e che presta grande fiducia ai rosso-blu che da martedì prepareranno l'insidiosa trasferta di Pineto. Grazie a tutti.